Il calcio ci ha uniti e la morte ci ha separati. Io e Maldini l'avevo comprato in squadra per sette anni, abbiamo giocato insieme nel Mila e in Nazionale. Abbiamo fatto anche il Mondiale nel 62 e devo dire che è stata una perdita veramente tristissima. Non mi vergogno di dire che durante la messa in chiesa non c'era una persona che non piangeva, compreso me. E' stata una delle poche volte, io non vado quasi mai in funerale, ma era doveroso andare da un mio collega, da un mio amico. Dividevamo anche le stanze insieme all'inizio. E' stata una cosa molto triste perché è stata una cosa per noi improvvisa, magari la famiglia sapeva che stava male ma noi no. Questo è un esempio di giocatore serio, di un giocatore fantastico che non ha mai creato problema e è stato veramente uno dei più grandi giocatori.